fabula e intreccio analessi e prolessi l'ordine di un testo può seguire la fabula o l'intreccio la fabula è l'ordine degli avvenimenti secondo la loro successione naturale segue l'ordine cronologico l'ordine temporale degli eventi e segue l'ordine logico i rapporti di causa ed effetto l'intreccio e l'ordine che l'autore sceglie di seguire nel raccontare gli eventi l'autore per rendere più avvincente al racconto mette in disordine il tempo della vicenda e usa l'analessi per raccontare eventi successi prima la prolessi per raccontare eventi che devono ancora succedere